buongiorno contadini come state allora oggi parleremo di fertilità del suolo nel nell'orto tradizionale come sapete parliamo del sinergico del tradizionale oggi vediamo come integrare la fertilità nel tradizionale e poi parleremo di come le piante percepiscono i suoni così finché aspettiamo che qualcuno si butti dentro io do già il titolo in modo che chi lo guarda dopo capisce già di che si parla come si dice qui in toscana va bene allora vediamo se qualcuno arriva è eccoci qua il primo che si butta dentro grandi vediamo un po quanto arriviamo oggi e vi anticipo che vi faccio vedere qualcosa in un posto dove vangherò domattina ok è qualcosa maurizio ciao che piacere grande quindi qualcosa dove vangherò domattina è qualcosa dove il mio babbo in questo caso ha già sistemato il terreno per coltivare e ha preso un certo tipo di materiale quindi vi farò vedere quello e dopo di che andremo a capire come le piante ci sentono fra virgolette e quindi percepiscono i suoni dunque io direi di incominciare siamo già in 4 5 eccoci qua buongiorno a te morizio grande andiamo cominciamo col dire questo in orticoltura tradizionale noi muoviamo il terreno tutti gli anni muovendo questo terreno che cosa ci va che cosa si integra nel terreno ogni volta che lo muovi l'aria ora dovete sapere nell'aria c'è l'ossigeno ok questo lo sappiamo tutti e dovete sapere che l'ossigeno è un elemento disgregante per la sostanza organica che c'è nel suolo eccezionale come per tutta la sostanza organica ovviamente io faccio sempre l'esempio se noi mettiamo un pezzettino di mela sul tavolo quello dopo un po marcisce va male e perché va male perché c'è anche l'ossigeno che lo disgrega e lo stesso succede dentro il terreno quando lo lavoro quindi che cosa succede che è molto più veloce è molto più veloce la disgregazione della sostanza organica e quindi è resa disponibile per le piante in maniera molto più veloce molto più rapida intanto ciao elisa che piacere vederti qui ciao alessandro ciao marco eccoci qua si buttano in tanti dentro quindi adesso andiamo a vedere un caso particolare di un suolo dove già presente molta sostanza organica è un caso dove il suolo è stato lavorato solo argilloso e questa sostanza organica è stata messa poi vi dirò anche come reperire la sostanza organica vicino a voi che tipi vanno bene cosa è meglio evitare ok perché se ne sente dire di tutti i colori guardiamo di mettere un punto d'accordo allora io prendo il solito stabilizzato rino ci muoviamo ci muoviamo e andiamo a vedere dove sono attenzione adesso vi giro la fotocamera ciao aldo intanto dell'argentina grandi come sempre da tutto il mondo allora dovete sapere che questo posto qui vedete che c'è un bel po di ci sono tanti pezzetti di legno per terra questo posto qui è la legnaia dove per tanti anni abbiamo accumulato la legna per far andare il riscaldamento di casa ora che cosa succede che tanti pezzetti di corteccia pezzetti di legno eccetera eccetera si sono accumulati per terra negli anni creando uno strato di sostanza organica straordinario e questo mi permette di dirvi cosa che non serve solo il letame no che giustamente è il top del top ok non serve solo il letame serve anche il legno il compost eccetera perché si dice che il compost va bene vi faccio vedere adesso perché succede che guardate qua succede che decomponendosi il legno gli scarti eccetera crea quello che tanti chiamano terriccio il terriccio spesso a parti di torba che vengono prese dalle foreste del nord europa e altro con s scusate altro non è se non legno che si è decomposto come abbiamo qui abbiamo la fortuna di aver fatto la legnaia qua ok per tanti anni e abbiamo il legno già decomposto già pronto per coltivare allora che cosa succede che l'unica cosa a cui fare attenzione e qua cominciamo andare a vedere i materiali l'unica cosa a cui fare attenzione è la tipologia di legno per esempio il pino e le conifere in genere il pino il cipresso non va bene perché è piuttosto acido ciao paura grande dal cile ragazzi abbiamo cile argentina grandissimo uno spettacolo stai diretti e quindi diciamo così stavo dicendo le conifere non vanno bene perché acidificano molto il terreno e questo per l'orticole in genere non è una buonissima cosa ok quindi in questo caso noi qui abbiamo sempre bruciato quercia acacia quindi tutte le latifoglie e tutti i legni che decomponendosi creano un territorio di ottima qualità di così buona qualità che adesso vi faccio vedere cosa ha fatto il mio babbo e mi serve per darvi uno spunto sul come aggiungere sostanza organica e quanto anche ai vostri ai vostri orti ora da queste parti abbiamo tanti caprioli e tanti cinghiali per cui va recintato ok è fondamentale quindi adesso inquadriamo l'orto siccome io sono fuori dal recinto in questo momento lo inquadriamo attraverso la rete e vediamo che succede allora come vedete apriamo il buchino della rete andiamo dalla fotocamera anzi facciamo così come vedete ci sono due cumuli uno là e uno qua di praticamente è terriccio ricavato dal posto in cui ero dieci secondi fa vedete la quantità che è stata messa questi saranno dunque sei metri per due di orto quindi dodici metri quadri e abbiamo due bei cumuli che saranno sufficienti a rendere questo terreno diciamo a fargli fare un bel salto di qualità già non è non è male è già non è male da queste parti c'è tanta argilla ma si è visto di peggio in questo modo cambierò la struttura del suolo e aggiungerò sostanze aggiungerò sostanze organiche perché allora andiamo a parlare ok di cosa è la sostanza organica per il nostro orto non è un concime è un ammendante sapete che vuol dire allora l'ammendante è una sostanza che cambia la struttura stessa del suolo perché la sostanza organica non è solo questione che ha le sostanze nutritive è questione che va a creare si dice i legami colloidali quindi diciamo le connessioni tra particella particella di suolo che di fatto permettono la vita ok questo lo fa in gran parte il carbonio lo fa perché la sostanza organica contiene cosa in gran parte contiene carbonio ok e poi ha anche sostanze chimiche che sono nutrimento per le piante in quel caso quando noi aggiungiamo il concime chimico ok si parla proprio di concimazione la concimazione è apportare una sostanza chimica al suolo perché sia diciamo assorbita velocemente dalle piante invece l'ammendante come in questo caso come il letame come il terriccio eccetera eccetera nutre le piante sì ma migliora la struttura stessa del suolo allora andiamo a vedere vicino a casa che cosa potete trovare perché la creatività in questo caso è una roba interessante che ci aiuta abbiamo visto che noi abbiamo usato del terriccio di legno perché abbiamo avuto la fortuna che davanti a casa questo si era creato con il tempo ma voi potete andare in addirittura da qualche segheria o falegnameria eccetera eccetera con attenzione perché spesso lì ci sono i trucioli di conifera che non dovete prendere ok e reperire dei trucioli portarveli a casa farli lasciarli un anno due fermi a marcire in modo che si che si che si decompongano un minimo già per il vostro orto e poi incorporarli alla terra oppure se avete un maneggio per esempio avete un maneggio vicino fantastico andate lì e cercate di capire se vi danno qualche sacco di letame di cavallo fantastico avete un allevamento di polli avete un vivaio avete una ditta di i giardinieri che spesso volentieri l'erba di sfalcio o la buttano via o la portano nelle compostiere comunali non gli costa niente lasciarvi prendere qualche cassetta di erba sfalciata capito per portarvela a casa anche dal Brasile ciao Francisco intanto ciao Francisco che piacere averti in diretta ciao pelle ciao Gabriele guarda qua meraviglioso quindi capite la sostanza organica non è solo il letame come trovo il letame dove sarà l'allevamento di mucche no scatenate la fantasia e poi chiedete qui anche nei gruppi nel gruppo nella pagina Facebook di Rural Academy scrivetemi pure perché mi stanno chiedendo in tantissimi in questi giorni qua certo Chico scusami è che ho visto il nome Francisco allora ho detto così ciao Chico perfetto quindi ecco questo è il messaggio che volevo lasciarvi oggi sulla fertilità del suolo fondamentale ripeto in orticoltura tradizionale perché voi tutti gli anni dovete reintegrare sostanza organica se nel sinergico tutti gli anni reintegriamo la pacciamatura ed è quella la nostra sostanza organica nel tradizionale dovete integrare materiale che incorporate nel suolo quando lo lavorate d'accordo questo era il primo argomento in questa diretta secondo argomento e qua vediamo un po se qualcuno casca dalla seggiola perché ora vi dico che le piante possono percepire i suoni e questo è qualcosa di molto interessante molto interessante dico bene allora come fanno come fanno intanto l'ispira diciamo l'ispirazione come dire questi dati qua queste conoscenze le trovate se cercate Stefano Mancuso su internet e trovate articoli trovate interviste trovate video dove viene raccontato questo io lo racconto nelle dirette perché è qualcosa che stiamo portando anche nelle scuole intanto torno verso il cavalletto nelle scuole e sono conoscenze che sono fantastiche allora l'affermazione che le piante possono percepire i suoni come funziona dovete sapere che nelle parti verdi quindi tutte le foglie le piante hanno in termine tecnico si chiamano villi quindi hanno delle piccole screscenze microscopiche che sono sensibili alle vibrazioni quindi quando si sente quando c'è un rumore la pianta è in grado di percepirlo la cosa diciamo fondamentale che gli scienziati dovevano capire era queste informazioni poi vengono elaborate dalla pianta le utilizza oppure no è qui stesso discorso che ho fatto qualche giorno fa per la vista delle piante succede che nell'apparato radicale hanno scoperto che c'è attività elettrica negli apici delle radici sono negli apici ed è un'attività elettrica paragonabile a quella del cervello e questo boom quando hanno scoperto questo si sono resi conto che le piante avevano in qualche modo paragoniamo sempre i termini con delicatezza è perché sono paradigmi molto diversi dai nostri che sono paradigmi animali in qualche modo prendevano decisioni ovvero questi suoni che la pianta recepisce attraverso le parti verdi vengono poi elaborati dall'apparato radicale e la pianta reagisce di conseguenza hanno fatto tanti esperimenti l'università di tutto il mondo li hanno fatti con la musica li hanno fatti con vibrazioni diverse eccetera eccetera e risulta essere proprio così la pianta ha un'attività elettrica diversa a seconda del suono che percepisce ok e addirittura spesso e volentieri come succede per la vista perché se vi ascoltate la diretta di qualche tempo fa sentirete anche che le piante ci vedono sempre fra virgolette ovvero percepiscono le immagini e a seconda di quello che percepiscono reagiscono tipico esempio il fagiolo che vede sempre fra virgolette il palo e va verso il palo per arrampicarsi succede uguale per per i suoni succede la stessa cosa e quindi qua mi direte scherzandoci su ma non più di tanto allora quando parlo alle piante è vero che succede qualcosa certamente sì che è vero logicamente è vero con queste scoperte ormai è dimostrato la paola mi dice incredibile esatto paola incredibile è un cambio di paradigma che veramente è impressionante è impressionante se poi lo mettiamo insieme al fatto che la pianta a questi sensi ce li ha diffusi quindi se io taglio il 90 per cento della parte verde della pianta il 10 per cento che rimane continua a recepire i suoni non è come noi che se ci se ci tolgono le orecchie non ci sentiamo più ok le piante no quindi è una forma di intelligenza di organizzazione che è molto interessante vedrete in futuro ci saranno sviluppi su questo nell'organizzazione umane nella tecnologia eccetera eccetera quindi andate a cercarvi le fonti stefano mancuso andate su youtube cercate i suoi libri tutto quanto c'è scritta tutta questa roba qua non solo lui è anche altri scienziati stati uniti in canada eccetera eccetera hanno fatto questo tipo di ricerche collaborano anche anche con lui anche con altri e fra l'altro paola che sei in cile mancuso ha ricevuto un premio dal parlamento cileno qualche qualche tempo fa mi sembra due tre anni fa per cui troverà il video anche di quella roba lì bene siamo giusti nei tempi che ora devo andare in diretta per i bambini raccontiamo una favola e andiamo a conoscere il susino selvatico e le api va bene quindi il linguaggio sarà più in bambinese qui parliamo di robe un po più tecniche e lì si va in bambinese ultima cosa ragazzi avvertimento il primo il 2 di aprile è probabile che le temperature vadano sotto zero le previsioni le danno a meno due quindi occhio con gli orti coprite se avete già messo roba fuori soprattutto se avete già trapiantato i pomodori copriteli guardate di fare qualcosa anche se avete alberi da frutto piccoli potete coprirli col tessuto non tessuto se sono grandi è più difficile ma vi avverto manca ancora qualche giorno per cui chi può organizzare si organizzi va bene poi faccio anche un post su facebook su questo ciao ci si vede a presto ciao contadini